Nuovo colpo a Cosa Nostra, 62 arresti tra Palermo e San Giuseppe Iato. Due anziani padrini al comando dei clan, imprese, affari e soldi, raffica di sequestri. Finisce in carcere un piccolo esercito capace di tenere sotto scacco due grosse fette di territorio in Sicilia. Il mandamento di Santa Maria di Gesù è quello di San Giuseppe Iato. I carabinieri stanno dando esecuzione a ben 62 ordinanze di custodia cautelare. I soggetti sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento, ricettazione, favoreggiamento e reati in materia di armi aggravati dal metodo mafioso. C'è anche una raffica di sequestri, attività commerciali, imprese e beni immobili frutto di illecito arricchimento. L'operazione ha permesso di scoprire la riorganizzazione delle varie famiglie mafiose, compresa quella di Altofonte, e di nuovi assetti dei vertici di Cosa Nostra. A reggere le fila sarebbero due anziani boss, Mario Marchese, 76 anni, alla guida del mandamento di Villa Grazia Santa Maria di Gesù, e Gregorio Agrigento, 80 anni, a capo del clan di San Giuseppe Iato. Pizzo, danneggiamenti ma anche investimenti. Con i soldi del clan nel corso degli anni sarebbero state avviate o rilevate alcune imprese. I titolari, inizialmente vittime, avrebbero scelto poi di mettersi in affari con i boss. Il nome di Mario Marchese era già noto agli investigatori. Era imputato, infatti, nel primo maxiprocesso alle Cosche. E prima di allora il suo nome venne fuori già nei primi anni Ottanta, quando, si dice, riuscì a sfuggire al bliz di Villa Grazia. Una cosa è certa, ciò che è emerso è che l'organizzazione mafiosa trova ancora il suo punto di forza nell'organizzazione unitaria. Capi dei mandamenti e delle famiglie si cercano, si pongono questioni di reggenza e di demarcazione territoriale, si armano per dimostrazioni di forza e per tentare scalate criminali molto pericolose.